Partiamo dal titolo L'amore è un cane blu. È un titolo strano anche per me, questo titolo è nato da un sogno che io ho fatto, dove ho sognato una ragazza e un cane blu. Poi sono partito verso le zone di Trieste, Slovenia, Carso, perché volevo ambientare lì lo spettacolo, la trama, raccogliendo favole, miti, racconti, facendomi solo ispirare e lì mi hanno raccontato, tra le varie favole o miti, quello del cane blu, che è un cane particolare, che quando si presenta salta il tempo, salta lo spazio, si ribalta il mondo. Questa cosa mi ha molto colpito, devo dire che può essere che, essendo poi nato da quelle parti, qualche mia nonna, zia, mi abbia raccontato da bambino la storia del cane blu e io me la sia dimenticata, l'ho rimossa, poi l'ho sognata e poi me l'hanno rifatta presente. Io gioco molto borderline, nel senso che le storie che io racconto le raccolgo molto dalla vita e dalla strada, a volte quello che succede a me faccio che succeda a un altro nella storia, a volte quello che mi ha raccontato un altro lo faccio succedere a me, cioè tutto quello che viene raccontato è falso e tutto quello che succede è vero, è molto borderline, neanche io a questo punto so realmente cosa c'è di biografico, cosa c'è di inventato, però è un modo di far teatro dove sul palco, non solo io, anche il gruppo, i virtuosi del caso, che sono dei musicisti ma anche attori, c'è sia l'attore, che è quello che conosce il mestiere, il personaggio, quello che evoca, che interpreta, ma anche la persona, ed è tutto giocato così, ma neanche noi a volte sappiamo in quale di questi tre posti stiamo. Questo è uno spettacolo del tipo in prova, voi non avete idea, la fatica, la difficoltà di fingere un vuoto di scena, un vuoto di memoria, un qualsiasi errore, anche una stecca all'unisono di tutta l'orchestra, è tutto fissato, tranne il mio ponte, che me l'ho fatto due settimane fa, che se schizzasse nelle prime file, se potete ritornarmelo, perché costa più della scenografia. Io ho fatto sei anni prima che scoppiasse Tangentopoli, ho fatto lo spettacolo sulla difesa della Costituzione otto anni fa, quando ancora non era un argomento, ho detto in una canzone che era l'invincibile armata che Berlusconi, che allora aveva comprato il Milan, sarebbe diventato presidente del Consiglio, quindi sono ritornato a questo modo di far satira, che non è rincorrere alla cronaca, che è difficile farlo anche perché non puoi fare la parodia di una parodia, sono già loro una parodia, cosa faccio la parodia da parodia? No, ma immaginare raccontando le storie dal basso, cioè di gesti quotidiani, di scelte nostre dal basso, immaginarsi un futuro. In questo senso mi è venuto ottimistico, per cui spero di prenderci anche stavolta. Grazie. Grazie.